Siamo a Portellella Ginestra, un luogo simbolo per la storia dei siciliani. Giuliano e la sua banda che erano appostati proprio dove ci sono quei rovi, dietro quei rovi a quasi metà della montagna c'è un grande spiazzale di circa 2000 metri ed erano appostati proprio lì. C'era una postazione più centrale guidata da Giuliano e una postazione più a sinistra dove erano appostati gli altri mafiosi. Di fatto si spara qua, vengono fatte, si fanno 12 vittime. Questa è la prima che può essere definita strage di Stato in Italia. E proprio qui, nell'anno 2001, ha preso in via il progetto Libera Terra. A oggi le cooperative sociali di Libera Terra sono presenti in quattro regioni, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Il bene confiscato dalla mafia come motore e volano per lo sviluppo economico dei territori. Il biologico perché, innanzitutto, riteniamo il rispetto all'ambiente la prima forma di legalità possibile. Abbiamo il dovere di restituirlo così come l'abbiamo ricevuto. L'obiettivo fondamentale è cercare di creare delle imprese cooperative che siano sane, che siano vere e che siano autosostenibili. Produrre dei prodotti che siano innanzitutto buoni ci permette di accrescere il nostro progetto sociale, dare giusta dignità ai soggetti svantaggiati attraverso la possibilità che gli si offre di lavoro. Abbiamo visto che il prodotto, innanzitutto, viene apprezzato per la sua qualità, però successivamente c'è un grande interesse per il progetto che ci sta alle spalle. Fare un prodotto buono che potesse reggere il mercato per sostenere il nostro progetto sociale sta avendo in pieno la sua concretezza. È una grande soddisfazione. Grazie a tutti.